ciao e benvenuto a questo nostro nuovo video che fa parte della playlist giulia chitter coach solution soluzioni chitarristiche per tutti i chitarristi allora oggi parliamo di un elemento che secondo me ogni ogni chitarrista dovrebbe avere assolutamente assolutamente ed è una cosa molto importante scusa mi sto lavorando un attimo col mio telefono perché devo cercare ecco qua un dialogo che ho avuto proprio ieri sera con una ragazza di un gruppo allora la ragazza poneva questa domanda ma secondo voi è meglio un maestro una scuola un maestro privato o una scuola di musica o meglio meglio lezioni pubbliche diciamo così o lezioni private al di là che ognuno di loro ha detto insomma un po la loro perché giustamente poni una domanda nel gruppo a lei c'è tutta la fila di gente che che risponde giustamente ci mancherebbe sicuramente appunto è giusto fare così dunque vediamo un po vediamo un po mi ecco ho seguito io tutto il il dialogo a un certo punto ecco lei diceva proprio allora vediamo se lo trovo diceva praticamente che non riesce ad andare avanti cioè lei ha lavorato ecco da autodidatta fino immagino a ora dice ma a un certo punto io adesso mi sono resa conto che non riesco più a fare nulla ho bisogno di qualcuno che mi segue e quindi lo sto cercando allora mi sono molto incuriosita di questa di questa domanda che non è poi così scontata perché non tutti comunque sono così allora innanzitutto non tutti sono così onesti con se stessi quindi non hanno la come dire l'onestà appunto la sincerità di ammettere a se stessi che arrivati a un certo punto non puoi più andare avanti con i soli video quindi saltellando da un video all'altro di tutti questi maestri questi guru insegnanti chitarristi del web non si può non è possibile e prova ne è il fatto che questa ragazza appunto scrive anche ecco sono veramente molto disperata perché pensavo in qualche modo di riuscire o che mi bastasse comunque guardare qualche video e quindi imparare insomma così un po' a costo zero no perché noi siamo sempre quelli che dobbiamo risparmiare o che vogliamo le informazioni ma non vogliamo tirare fuori il soldino perché questo è un po' il concetto la mentalità un po' credo di noi italiani che cerchiamo di carpire sempre le informazioni ma nel modo più nel modo più proprio gratuito possibile insomma quindi dopo aver seguito dicevo tutti tutte le varie conversazioni ho detto cavolo adesso voglio proprio fargli ecco la domanda chiave quella che secondo me è proprio quella più adatta le ho detto cosa vuol dire che da autodidatta non riesci più a fare nulla e lei mi ha risposto giulia taburello non riesco ad andare avanti sono bloccata allo stesso punto da tanto tempo poi mi scoraggio e non sono più costante per questo volevo qualcuno che mi seguisse l'ha detto lei e poi dite te lo dico io che vi faccio le video tutti e dovete affidarvi a me per la chitarra bababa lo dite voi cioè lo dicono comunque ecco questa in questa chat e non è la prima ne ho trovato un altro ieri ovviamente ieri il tempo non era molto bello qua a torino allora si sono tutti un po scoraggiati ma un altro ragazzo mi diceva mi diceva diceva la stessa cosa io dice non riesco ad andare avanti cioè sono sempre ferma allo stesso punto commetto sempre gli stessi errori quindi come questa ragazza mi sto scoraggiando perché non riesco a capire qual è il mio problema allora io mi sono così permessa ovviamente di di fare comunque una sorta di così appunto mi sono posto un po di domande in realtà ecco e mi sono detta beh allora vuol dire che effettivamente c'è un'esigenza specifica a un certo punto perché io ho sempre detto ma probabilmente non è ancora ben chiaro forse e non smetterò soprattutto mai di essere convinta di quello che dico che comunque quando una persona vuole imparare a suonare la chitarra non può andare come si vuol dire a muzzo non puoi prendere i video qua e là e zompettare da un maestro all'altro e mettere tutto insieme e cominciare a fare qua e là il maestro i video non ti risponde se hai un problema non te lo risolve se hai un problema tecnico forse ti risolve ma se hai un problema pratico diciamo così ecco pratico ma nel senso che va al di là della tecnica e adesso vediamo se riesco a trovare anche questo questo dialogo che ho fatto sempre stamattina è un fine settimana molto eccolo qua che diceva appunto che insomma era molto entusiasta in realtà di questo di questo suo percorso che sta facendo che appena iniziato anche lui va beh cerca strimpela quella e io gli ho scritto guarda sento sento molta motivazione dentro di te sono contenta buon lavoro e lui mi dice hai colto proprio nel segno come dire la motivazione è sempre quella e cioè ci vuole comunque una buona partenza vogliamo dire così ci vuole comunque un qualcosa che ti esce ti nasce dentro di te e che vuole uscire prepotentemente e ti vuol far dire prendi sta cavolo di chitarra e comincia a suonarla dopo di che deve essere andato credo proprio a guardare il mio profilo e infatti mi dice ma posso chiederti cosa intendi per guitar mental coach e io gli ho detto che il mental coach è una guida che ti segue passo passo nel tuo percorso chitarristico ti aiuta a capire se eventuali difficoltà riscontrate nel suonare la chitarra non siano solo tecniche posturali principalmente e andatevi a vedere il video sulla postura che avevo già fatto ma derivanti da altri da altre situazioni magari personali o contestuali lui mi ha chiesto se io sono comunque anche diciamo esperta per quanto riguarda gli esperti tecnici e gli ho detto di sì ok e lui mi ha mi ha risposto quindi voglio dire che alla fine ragazzi cioè non siamo a girarci intorno non è possibile imparare a suonare la chitarra se non hai davvero una forte motivazione l'avessi avuto io forse la possibilità di guardare video su youtube nel lontano 1991 forse ma forse anche no forse meglio così mi sono dovuta arrangiare col mio libricino di accordi e ho comunque lavorato su di me ho lavorato io me stessa la chitarra il libricino tutti i due insieme tutte e tre insieme insomma eravamo una folla di gente che però ha poi portato a un risultato perché io nonostante tutto poi ho sempre detto nella mia nella mia storia che comunque ho chiesto una mano di qua e di là ma ho suonato tanto ho suonato tanto ma davvero tanto però ora forse erano anche altri tempi non lo so ma io ho desiderato davvero suonarla la chitarra ero seriamente motivata e sono andata avanti assolutamente proprio a sprombattuto volevo farlo l'ho fatto gli ho dedicato del tempo non sono uscita delle delle sere con gli amici o diciamo sacrificato la mia vita sociale per la chitarra per la chitarra ragazzi la chitarra la devi amare se vuoi lavorare seriamente con lei la devi amare non ne puoi più fare a meno e per lavorare seriamente ti devi affidare comunque ad una persona perché troppi input che arrivano da fuori ti confondono ti mettono agitazione ti creano confusione mentale e non sai più poi dove devi andare a parare perché poi alla fine troppe informazioni come dico anche in alcuni video del mio corso emotional guitar che tengo per gruppo privato facebook dico che comunque la bisogna bisogna volerlo bisogna davvero volerlo ma non basta comunque anche solo la tecnica bisogna farsi guidare da qualcuno ma perché perché il nostro cervello come dico appunto nel corso il nostro cervello ha una come dire fa una selezione di tutti gli input che gli arrivano e quindi in automatico se gliene arrivano 50 lui fa una selezione e tiene conto solo quelli che poi in qualche modo noi sono quelli poi che noi ricordiamo e quindi se già il cervello non ce la fa a ricordare un tot ma figuriamoci se noi guardando sul web perdiamo tempo o spendiamo del tempo mettiamola così a guardare ascoltare comunque i video di tutti quanti allora o ne scegliete uno e seguite quello e non zompettate da un video all'altro oppure vi affidate ma deve essere un maestro serio comunque ma deve essere uno che quello che io chiamo appunto il guitar mental coach che poi ovviamente altro non è che un maestro quindi qualcuno che sa suonare la chitarra ma che a fronte di problematiche come queste che dicono sono rimasto bloccato non riesco ad andare avanti faccio sempre gli stessi errori ma cosa cavolo è che non mi fa andare avanti magari saranno problemi posturali magari saranno problemi di come appunto mette le mani le dita sulla tastiera ma siamo sicuri che così siamo davvero sicuri che proprio quello magari c'è un altro problema dietro magari c'è un altro una difficoltà che figurati se è quella e poi magari invece è proprio quella una problematica che non è stata assolutamente presa in considerazione può essere proprio la chiave di lettura per sbloccare quella problematica e questo maestro te lo dice vai in un video te lo dice certo tu puoi anche iscriverti al suo corso seguirlo direttamente se hai la fortuna di poterlo frequentare però non so non lo so un guitar coach un guitar mental coach quale io sono è comunque qualcuno che ti segue passo passo certo e ci mancherebbe ma va al di là della chitarra stessa e della tecnica stessa perché aiuta a capire dentro di te se ci sono e se se ci sono delle 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 situazioni che tu applichi anche alla chitarra in maniera inconsapevole e che quindi in qualche modo ti blocca perché tu ad uno stimolo reagisci in un certo modo e magari questo stesso stimolo che tu hai avuto magari in altre situazioni in altre problematiche lo ritrovi e lo hai ricreato tu stesso nel tuo rapporto con la chitarra e ti e ti blocca perché reagisci in un modo che a te non so non piace non lo so ci deve essere sicuramente una situazione che in qualche modo ti ha portato a ad agire e a reagire in un determinato modo quindi anche con la chitarra per cui è facile dire facciamo i maestri di chitarra e voglio dire ponderate bene le vostre scelte ma fate sicuramente attenzione a chi a chi scegliete perché bisogna comunque affidarsi anche alla persona giusta la persona che da come dire che con la quale si crea un po le la famosa empatia che scatta quindi quel qualcosa che in qualche modo ci piace dice ma c'è quel quel certo non so che provate 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 perché sicuramente ha già fatto un lavoro su di sé quindi ha tutta l'esperienza e tutta la capacità proprio per esperienza di poterti dare offrire la sua la sua conoscenza la sua competenza e anzi la cosa bella è che lui io farò in modo che tu impari a suonare la chitarra nel tuo stile personale nel tuo modo personale perché l'approccio che hai tu con la tua chitarra non è lo stesso di chi di un'altra persona di chi è al di là tu lo impari in un modo io l'ho imparata in un modo qualcun altro l'ha imparata in un modo certo tu mi dici ma allora se io l'ho imparata in un modo e tu l'hai imparata in un altro modo insomma come facciamo a capirci uno studia mica per niente ecco ci sono delle metodologie che sono comuni ma che possiamo assolutamente modellare su di te come me le sono perché me le sono poi io stessa modellate su di me e quindi questo modello lo proprio lo faremo su misura per te quindi siamo partiti da questa situazione da questo blocco di questa ragazza di un'altra di un'altra di un altro ragazzo di un altro ragazzo di questo gruppo siamo passati a capire che insomma ci vuole un maestro ci vuole addirittura un guitar mental coach yeah cioè una roba proprio fantasmagorica che appunto altro non è che un insegnante perché insomma un minimo di chitarra bisogna pure averla un insegnante che ti sa assolutamente guidare che utilizzerà le cose i stessi mezzi le stesse forze che tu hai e che non sai nemmeno di avere che ti porterà in qualche modo a prendere la strada giusta quando tu non saprai dove andare dove che ti guiderà comunque verso il tuo obiettivo il tuo vero obiettivo personalizzandolo e ovviamente modificandolo nel tempo perché comunque le lezioni sono un percorso di vita io dico sempre quindi nel tempo nel percorso ci possono essere anche delle degli imprevisti che ci possono come dire far riprogrammare il tutto ma quello e soprattutto un guitar mental coach ha già fatto tutto tutto quello che tu vorresti fare quindi personalmente io ho raggiunto il mio obiettivo diciamo in questo senso adesso sto lavorando per un altro obiettivo ma io ci tengo davvero 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 tanto a dirti che puoi raggiungere anche tu la mia stessa situazione puoi raggiungere anche tu il mio stesso obiettivo perché io appunto ho già fatto quello che tu dovrai fare ho già vissuto quello che tu dovrai vivere e ho già superato le difficoltà che ho trovato e che tu potresti 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 incontrare ma non vorrei neanche purtroppo escluderle in una frase che chiudo che chiude appunto il video ti aiuterò comunque a riprendere in mano la tua vita perché davvero suonare la chitarra è uno stile di vita e quello che imparerai con me ti assicuro che non lo trovi in giro non lo trovi assolutamente assolutamente poi sono un'insegnante donna guarda nel web quanti insegnanti donna ci sono scrivimelo nei commenti io accetto la sfida scrivimelo nei commenti quanti insegnanti donna tu hai trovato sul web fammi sapere e così magari ne discutiamo io sono giulia tamburello sono una appunto una guitar coach e ti invito a seguire tutti i miei canali youtube instagram e appunto facebook giulia guitar coach non puoi sbagliare e per il momento ti saluto ti ringrazio e ti ricordo appunto che suonare la chitarra è uno stile di vita ma che tutto parte dalla testa dalla tua testa ciao